Da lunedì prossimo la zona del porto sarà riqualificata con diversi interventi di miglioramento estetico e di sicurezza. I lavori per un costo complessivo di 335 mila euro frutto di un finanziamento regionale vedrà coinvolto nel primo step il molo di Ponente. A spiegarci nel dettaglio il cantiere è l'assessore Cristian Fanesi. Porto è un elemento caratteristico della città di Fano, uno dei poli attrattivi anche dal punto di vista turistico. Quindi il molo di Ponente dove siamo in questo momento sarà riqualificato inizialmente con una illuminazione diversa, LED molto più importante che arrivi fino in fondo. Metteremo anche, aggiungeremo degli elementi di arredo che potranno essere più, come dire, confacenti alla necessità anche di una passeggiata. Inoltre, ha aggiunto l'assessore con delega Aldemagno Marittimo, verrà riqualificata l'intera pavimentazione della passeggiata che oggi mostra i segni del tempo e dell'erosione del mare. Infine, i prossimi interventi riguarderanno l'area lavorativa all'interno del porto. Abbiamo previsto anche il rifacimento della segnalettica orizzontale e verticale per le auto che accedono all'area portuale e verranno messe anche un controllo accessi, quindi delle sbarre che permetteranno di poter entrare in alcune aree del porto solo alle auto autorizzate dalla Capitaneria di Porto. E quindi ci sarà una regolamentazione attraverso queste sbarre che consentiranno il passaggio solo degli autorizzati per le banchine e per le aree portuali dove si lavora maggiormente. Inoltre, sistemeremo anche nella parte del porto, sia vecchia che nuova, la pavimentazione con rifacimento anche di alcune parti in porfido, ma anche delle bitumature che servono e sono funzionali all'attività dell'uomo. Inoltre, anche qui saranno fatte quindi delle migliorie molto attese, tra queste anche la sostituzione dei parabordi, che sono molto utili ovviamente per la navigazione e sono già state acquistate delle panne anti-inquinamento in caso di sversamenti, che speriamo non avvengano mai, ma nel quel caso comunque noi saremo pronti con la collaborazione del Capitaneria di Porto, sia come protezione civile. Lavori che si concluderanno entro la metà dell'estate per dare così una nuova visione piacevole e rinnovata del porto a cittadini e turisti. Quindi lavori importanti, attesi, ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto e cercheremo di riportare un po' di vivibilità anche alla zona del porto, a cui teniamo tantissimo.